Vado? Conosciuta in tutto il mondo precisamente per la... Precisamente con chi ho potuto anche... No, è... Bellissimo? Alla mia... Madonna mia... Qua siamo conosciuti moltissimo... No, qua non era importantissimo santo, veramente che... No, volevo dire... Però non mi è piaciuto, infatti la rifacciamo. Siamo da Sisi... No, quella che vede... No, ricomincio sempre. Internazionale... Porca puttana, mi sono un po' pin... Siamo ad aspett... No, madonna... No, però voglio dire... Sono nella mia bellissima e amata... Pfff... Pittore internazionale... Sto qui per... Ma perché sto qui? Ecco... Ma che hai fatto? Mi stai guardando... E presto sapremo... Ma anche... Non solo per la presenza di San Francesco, che è più bello. Ad aspettare un famosissimo... No, mannaggia... No... Posso dire anche è stato meraviglioso passeggiare tra i colori... No... Dopo una bellissima passeggiata... Aspetta... Lì, va bene... Ah... Come avete... Sì... E vi saluta e ci... Vediamo... Allora... E vi faccio cose e vedo gente... Vi saluta e vi dice ci vediamo... La prossima però vi faccio cose e vedo gente... Cioè... Questa è una fascinografia... Questa è una meraviglia... La fascinografia... Veniva bella prima... Alla prossima ci vediamo... Ma non lo diciamo... Ciao... Faccio cose... Ciao... Cioè è carino così... Dalle riprese... Mannaggia sto motorino... Dopo una bellissima passeggiata nell'arte e nei colori... Eh no... Vabbè... Ricomincio eh... Dopo una bellissima passeggiata nei colori, nell'arte di... Mamma mia... Nell'arte di un'arte... Cioè veramente... Dopo una bellissima passeggiata nei colori, nell'arte di Mark Costabi... Oddio non mi ricordo che cazzo... Come avete potuto vedere... Memorizzato l'ultima... Dopo una bellissima passeggiata nell'arte dei colori di Mark Costabi... Come avete potuto vedere... No... È troppo lento vedi... Devo essere... Girate e... Non mi ricordo... Montate... Non mi sono persi termini adesso... Girate e montate... Il nostro artista... Girate e montate... E vi faccio cose... Vi faccio cose... Cioè... Vi... E... Faccio... E ciao alla prossima puntata... Oddio non lo so... Te è piaciuto dimmelo su tanto eh... No... No...